Allora, siamo qui, cominciamo, cominciamo. Prima di tutto, vedete un teatro, uno spazio bello grande, non si deve spingere, non dovete... No, cominciate a trovare la vibrazione giusta, la vibrazione con le vocali qua, il fiato non passa da qua, si ferma qua perché poi diventa vibrazione. Poi se esce un alito ci pulite gli occhiali e fate tutto quello che volete. Mentre cantate pulite gli occhiali, così avrete modo di usare il vostro canto anche bene, per cose, diciamo, utili. Invece, per cantare in teatro serve sostenere, non spingere di qua, qua c'è la vibrazione, quindi non sfogate il suono, vi mettete così, per trovare il suono avanti, no! Fermi così, laringe libera, distanziatore, non vi costa niente, questo è gratis, e questa è libera, vedete? E poi cominciate con una vocale. Lavorare con il diaframma sulla vibrazione, il suono viene dopo, dopo. Lavorare muscolare!